Allora, io interpreto Maddalena, il mio personaggio entra nella quinta puntata, quindi sono presente per le ultime quattro puntate e le ultime due serate. Maddalena è una cortigiana, una schiava che viene data in regalo a Cosimo de' Medici durante il suo esilio a Venezia. Ovviamente nasce questo rapporto carnale tra i due, però nasce anche un rapporto più profondo. Cosimo inizia ad insegnarle l'arte, quindi fa un viaggio nel passato, nel suo passato. Noi raccontiamo che Cosimo viene costretto ad abbandonare la sua vera passione per seguire la strada che ha deciso suo padre. Quindi nel primo incontro lei parla e lui la guarda e le dice mi ricordi qualcuno, ovvero il suo primo amore, Bianca, interpretata da Miriam Leone. Quindi grazie a lei, insieme a lei, lui si immerge in questo mondo che ha dovuto abbandonare, in questa sua grandissima passione che ha dovuto abbandonare e la porta poi a Venezia, a Firenze, scusate, a vivere insieme alla moglie, confessionale Bardi, al figlio, a tutta la famiglia. Quindi si crea questa situazione che all'epoca era anche comune, era normale che l'amante vivesse nella casa insieme alla moglie e ai figli, però se lo guardi in questo momento, in questi tempi moderni, è assolutamente bizzarra come situazione. E lei da lì attraversa una trasformazione, perché all'inizio la vediamo molto curata con i gioielli, vestita di rosso, viola. E piano piano la vedremo con meno gioielli, meno cura nei capelli, nelle acconciature e dal rosso passeremo al verde e mano mano arriveremo al nero. E questo ti racconta, vi racconta esattamente proprio il percorso che attraversa questo personaggio. Si lascia andare, viene dimenticata, viene abbandonata da Cosimo e da amante diventa una serva della casa, pulisce per terra, lava i bicchieri, i piatti. Questa esperienza, cosa le ha lasciato sul piano umano e professionale? Beh, mi ha dato una grandissima voglia di fare altri progetti di questo tipo. Per me era la prima volta in un progetto così grande, una produzione così grande, ed era la prima volta in un progetto internazionale. Io sono inglese, sono nata a Londra, ma non l'ho mai recitata in inglese. Ed era un mio sogno e finalmente ci sono riuscita. Quindi mi ha lasciato la voglia di poter continuare in questo percorso. Lei parlava prima del suo personaggio, ma cosa l'ha affascinata di più? Beh, quando tu affronti un'epoca del genere da donna, ti rendi conto che le donne non vengono raccontate tantissimo, non hanno una grande vita e non hanno molto spazio. Quindi quello che mi è piaciuto tantissimo di questo personaggio è stato in realtà proprio questo, ovvero poter avere carta bianca, poter creare una donna che io ritengo sia forte, che sia orgogliosa, che sia fiera. Sì, è una schiava, sì, è una cortigiana, sì, insomma, si presta fisicamente, ma è una donna che è molto consapevole di quello che ha, di quello che può fare e di quello che la vita le ha dato. E quindi non si aspetta di più, però trae il meglio da questa situazione. E questo l'ho potuto fare insieme al regista e avendo anche un personaggio abbastanza neutro da questo punto di vista, in cui di cui non sapevamo niente. Il regista che ha avuto carta bianca è un personaggio che ti semiglia? L'hai reso molto simile a te o il più distante possibile? È un discuglio. Prendi un po' dove conosci, dove non conosci, ti diverti a mischiare i colori quando hai questa libertà. Quindi sicuramente vai sul conosciuto, però è anche bello poter raccontare e fare degli esperimenti, no? È il bello di questo mestiere. Se non lo fai, se non azzardi, non ha senso farlo. Nella serie si dice che l'arte non riempie lo stomaco d'artista, però Cosimo poi dice che non esistono i sogni. Come? Cioè veramente ci si può rinunciare allo stomaco pieno oppure no. Il mio personaggio pensa, dice, quando Cosimo le racconta quanto costa un'opera d'arte e lei risponde, beh potresti comprare dieci ragazzi come me. E che senso ha avere libri, opere d'arte se poi hai fame. Ed è molto curioso. Nella vita si cerca un equilibrio in tutto, quindi si cerca la possibilità di fare tutto senza dover, insomma, avere... No, il rumore nello stomaco fa anche bene in realtà. Si sprona poi a volere di più, a cercare di più. Mi sfuglio sempre. Hai detto che Cosimo ti porterà da Venezia a Firenze nella casa insieme anche a Contestina. Ci saranno dei contratti tra queste due donne importanti per lui? No, in realtà sia Contestina che Maddalena hanno un orgoglio che è molto bello perché non non c'è isterismo, non c'è... non c'è un confronto. Non raccontiamo due donne arrabbiate. Raccontiamo due donne che sono molto consapevoli della loro situazione e quindi si adeguano. non c'è uno scontro vero e proprio tra Maddalena e Contestina. Lei sa che è così che funziona. È arrabbiata, è amareggiata. Però poi allo stesso tempo Maddalena viene abbandonata perché ci sono cose più importanti, nonostante poi lei rimanga incinta. E Contestina poi dimostra di essere una gran donna perché la tiene, non la caccia, non la manda. Sarebbe molto facile allontanare l'amante quando non è più importante per tuo marito. Invece lei la tiene in casa e darà alla luce Carlo il figlio di Chietti.